Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch 4 Continuiamo immediatamente la nostra incredibile avventura Oggi dobbiamo fare qualcosa di veramente molto particolare nella scorsa puntata A parte guardate che figo lo skyline di... voi mi avete detto che sembra Valdoro Io non sono così sicuro, o meglio potrebbe esserlo però con delle modifiche Quindi non so effettivamente bene dove siamo Perché ad esempio mi avete detto dove c'è la casa di Natsume col di Brezza Però non vedo, non riconosco il museo e non credo che 40 anni cancellino un museo Ma comunque a parte questo, vi stavo dicendo, nelle scorse puntate abbiamo fatto veramente qualcosa di eccezionale Vediamo se posso salire di qua, no? Mi sa che devo andare da quella parte Abbiamo fatto delle lotte, ecco di là Davvero eccezionali, se vi siete persi gli scorsi appuntamenti andatele a recuperare E adesso con il rango del nostro Yo-Kai Watch aumentato appunto al rango D Siamo pronti per varcare il Varco Loggio Quindi mi raccomando ragazzi, tantissimi pollicioni all'insù per questa serie Perché intanto con il Varco Loggio sblocchiamo questo portale E in più abbiamo anche la chiave per andare E quindi, let's go Andiamo, utilizziamola Chissà dove ci porta Non ho idea di dove ci porti ragazzi Non ho veramente idea di dove ci può portare Allora, io mi sono preso un paio di appunti Su quelli che sono i nomi dei personaggi eccetera Quindi non vorrei sbagliare Dove siamo? Siamo in una campagna Shou Kenzan Shou Kenzan Ok Allora, cosa dobbiamo fare qui? Wow, chi è lui? Sembra uno Yo-Kai a lato Ok, riesce a parlarci No, non siamo Naruto Avete sentito anche voi Vabbè, comunque Non ha preso molto bene il fatto che noi stiamo parlottando e ridacchiando Cosa faccio? Attacca? No, al momento no Però dobbiamo andare da lui Andiamo con Natsume Let's go Piamoc'è anche questo prima Esploro anche un po' così Ti accego con lo Yo-Kai Watch? No? Va bene Parliamo con lui Ok Siamo pronti Sì Perché cosa? Forse abbiamo una missione Una prova da dover superare Cosa? Sarà una missione sicuramente molto pericolosa Ne sono certo Ho questa sensazione Vai, ci pensa Akinori Esatto Siamo tutti d'accordo Quando la gioco si fa duro Ci pensa Akinori Ciao Eh, Trisalamandra non l'ha presa benissimo Wow, che figata Ok, ci sta portando lui Ci sta portando lui Ma dove? Ok, siamo scesi Perfetto Grazie, grazie mille Benissimo Siamo in un punto dove ci sono degli Yo-Kai Finalmente che possiamo andare ad affrontare Benissimo Là davanti c'è Lo abbiamo chiamata Carnetta Non è Carnetta Ma ok Affrontiamola Molto bene Molto, molto bene Io spero di poter ritornare qui In modo tale da poter ad esempio livellare Se ho bisogno di farlo Spero di poter tornare qui E quindi di affrontare questi Yo-Kai Un po' in giro Vai Pollice in su Abbiamo già vinto? Ok Forte Va bene Level up va benissimo comunque Abbiamo ottenuto una sfera E Va bene Molto, molto bene Molto anche veloce Il passaggio da Lotta A Diciamo Gameplay Ma dove siamo finiti? Siamo in un punto Stranissimo Alto Andiamo Yup Uh Questa è una bella sfida Let's go Che poi è sempre Carnetta Però la chiamo Carnetta Ma Perdonatemi Ma non so il nome Ma ok Avete capito chi è Barrel start Let's go Io vado da Mr. Sabio Cambio con Junior Uh Mi ha dato un assist Bello anche questo Come tipo di lotta Cosa devo fare? Ah Ok Perfetto E Via Io penso che questo possa servire per ottenere gli yokai Penso che possa essere utile per ottenere qualche yokai Perché mi avete detto spesso Ecco ma com'è che si catturano gli yokai? Sei riuscito a capirlo? Io penso che questa cosa di estrarre e ottenere la sfera Possa essere collegata con E infatti abbiamo ottenuto una sfera con sabio E molti di voi mi hanno scritto che effettivamente con queste sfere Più avanti si sbloccherà la possibilità di renderle Forse sempre o forse dipende dalla fortuna, dal caso, non so da che cosa Possibilità di ritrasformarli in yokai Quindi è possibile Allora io mi farei un'ultima lotta Cioè l'ultima insomma Eccola qui Potrebbe servirci anche per livellare Per ottenere qualche altro yokai Sono molto veloci comunque come lotte Ah sono quattro gli yokai qui Credo come poco fa Battle start Vai nella mischia Nel mucchio selvaggio Let's go Vamos E' azzurra Sbam Get Diamogli l'ok Cosa fanno quando gli do l'ok? Si trasformano? No Al momento no Però a volte è capitato Forse è coincidenza Diamogli l'ok al nostro G-Bunion Mi piglio anche le varie cose Faccio qua così Vai Vai Vieni qua Bam Get Ottimo Benissimo Cosa abbiamo ottenuto? Un po' di esperienza Che lo dico sempre Fa sempre bene Uh abbiamo ottenuto una chiave Figo Abbiamo ottenuto un'altra chiave Per poter andare magari in un altro posto Abbiamo ottenuto anche due sfere Magari dipende dal colore La possibilità di ottenerlo o meno Lo yokai Non lo so Lo vedremo ovviamente Più avanti Eccolo lì E' lui? Si è lui E' lui ok Avevo visto il viola del Del punto esclamativo E non mi sembrava più lui Ma attenzione Non mi sfuggi tu Ok una sfera Una esfera Cioè una sfera di esperienza è quella Ve lo ricordate assolutamente Uh guardate che bello Ma a chi no Abbiamo un po' di difficoltà No 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 Cosa? No Akinori Ma cosa? Ok l'ha ripreso Uh No raga Da quell'altezza Eh sì Anzi ti ha salvato Fermo Stai fermo Stai fermo Che altrimenti ti lancia Junior raggiungici Voi come lo chiamereste Junior o Junior A questo punto ve le chiedo le cose Anche come pronuncia Prima che sbaglio Ho sempre questo timore Vivo nel timore Di voler sbagliare Un accento o qualcosa Ok comunque Abbiamo perso Akinori In tutto ciò Mentre io scherzavo sul nulla Abbiamo perso Akinori Benissimo Manca qualcuno Solitamente succede questo Quando manca Whisper E invece stavolta Manca Akinori E ci hanno dovuto pure riflettere Prima di capire Che mancava Akinori Quindi Si sono divisi Il gruppo si è diviso Akinori con Junior Junior E gli altri invece Senza Junior Ok C'entra qualcosa Il fatto che l'ho messo in squadra Oppure no Perché effettivamente Era in squadra Anche se era in panchina Siamo Akinori Non ci credo Che figata Siamo Akinori Ok Ma quindi posso lottare Anche con Akinori Forse no Perché non mi fa Andare nel menu Posso prendere ovviamente Gli oggetti Posso muovermi Ho solamente Junior Però Naruto Guardate come corre Come Naruto Con le braccia all'indietro Ok andiamo di qua Non caschiamo Perché già è caduto abbastanza Vai Dai ti devi ricongiungere Con gli altri Vediamo qua Un punto panoramico Ok Guardate quanto Quanto è alto qui Oh mio dio Va bene Andiamo Let's go Let's go Andiamo di qua Capiamoci questo E Uh Nice Guardate che figo qui Ma cosa abbiamo trovato Ok ho capito che dobbiamo andare lì E lì c'è un varcologgio Di rango C Quindi noi ancora non possiamo andare da quella parte Guardate quest'acqua con che colore Non ci possiamo andare Bene 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 Rimmaginavo Ti puoi aggrappare No ok Non arrivi fino a questa atleticità Però da questa parte No eh Va bene Vediamo se di qua No Sbatti solamente la testa nella roccia Ok Non fare Non farlo Ok Forse devo andare qui Come faccio a farlo salire da sopra Hey man Dovevi fare un pochettino più di attività Fisica Proviamo di qua Vai Salta Salta No Oh mio dio No Non posso ne scendere né salire Ah ok No devo andare qua Ok Non avevo visto che c'era questo passaggio Sorratemi Allora posso rischiare di andare di là Sì che posso rischiare No che non posso rischiare Però lo voglio quello Lo voglio Quindi Vediamo che salto ha Va bene vai Ok ci riuscirò ragazzi Parkour Parkour ragazzi Forse Kynori non è il migliore Per fare questo tipo di attività fisica Sì ce l'ho fatta Uno E due Vedete che Dovevo farlo Dovevo farlo Assolutamente Ho ottenuto una nuova moneta E potremmo Se riusciamo a uscire Da questo luogo nefasto Magari Poi Proviamo Proviamo a utilizzare le monete Dipende Dipende Perché effettivamente Lo potevo fare prima Però ero troppo curioso Di scoprire dove Dove ci avrebbe portato La chiave E quindi Sono andato subito Verso il varco L'avete visto insomma Va bene Direi che possiamo andare Verso il punto di interesse Ovvero questo Vai Vediamo che cosa succede Adesso E' un altro Yo-Kai Watch Non ci credo E' un altro Yo-Kai Watch E' un orologio Akinori ha trovato Uno Yo-Kai Watch Non ci credo Che figo Anche lui adesso Ha uno Yo-Kai Watch Grande Con una forma diversa Dalle altre Però ognuno di loro Ne ha una diversa Però tu non hai Eh hai solamente Junior Per poter Evocare Qualche Yo-Kai Dici Dici Eh non sa come si utilizza Forse Akinori 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 Scusa Cosa Hai una caccola rossa Che ti esce Oh mio Dio Non sto facendo niente Mi scusi Non sto facendo nulla di male Ok ragazzi Questo Yo-Kai L'avevamo già visto Nelle anteprime Del Del gioco Nei trailer E' E' una specie Di raffigura Una specie di Protettore Della natura E quindi Il fatto che ci sia Questo Yo-Kai Watch Immerso nella natura Appena lui l'ha preso Subito Lo Yo-Kai Il maiale bianco Uh Ridami Junior Ridami Junior È mio Non fargli del male Yes Non farmi lottare Contro di lui Però che non ho nessuno Vuoi lottare? Davvero? Let's go Aiuto Ok ragazzi Prepariamoci a usare Tutte le pozioni Possibili e immaginabili Akinori Non ha mai lottato Allora Vediamo un po' Coso Immaginavo Ho solamente lui Perfetto Ottimo Lui è di rango B Va benissimo Vabbè Li assegniamo questo Non posso switchare con niente Perché siamo da soli Potevo allenarlo Un po' di più Junior Vabbè L'ho messo in campo Da In questo episodio Quindi Eh Battle start Via Devo vedere subito Che cosa fa Uh Uh Via 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 Ai 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 Ok Via Via Vai Via Oh Onda energetica Attenzione Me ne vado Me ne vado Non ho posto per me Ok Viamogli un pochettino di questo Via Via Vai che si è trasformato Junior Wow Ancora mi vuole attaccare Ok No Ha evitato un attacco di Junior Che poteva fargli davvero male Però non ha tantissima vita Ragazzi Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Dai Attacchiamolo Vai Via Sì Questo è cosa succede Quando ti metti contro di Un attimo Io Basta Morto Morto Si era un po' incavolato Vabbè Ci abbiamo pensato No Tranquilo Basta Io Sulla carcassa Fargli esplodere 50 meteore Non è proprio Il massimo Ok È stato valoroso Hai lottato bene Akinori Ok Ce lo siamo guadagnati Prima l'avevamo trovato Adesso è nostro E quindi Akinori Praticamente diventa un personaggio Giocabile Alla pari di tutti quanti gli altri Inteso giocabile Proprio In questo senso Niente Non l'abbiamo trovato Eh brutta storia Che Che non lo trovano Deve essere terribile Immaginarsi una cosa del genere È caduto Chissà da quale altezza Ok Dobbiamo tornare dagli altri Saranno in pensiero Per noi Esatto Ma come si esce Ok Ma Poco fa È di enorme Vabbè ok Questo più o meno Lo sapevamo Ma è tenerissimo Lui ragazzi Per favore Vieni con noi Diventa Forse non vuole diventare Nostro amico Dai please Vieni con noi No Vieni con noi Su Dai a chi non li ti somiglia pure Bianchiccio Sì Sì L'abbiamo ottenuto Benissimo Benissimo ragazzi Sì sì Gli do il soprannome E però gli voglio dare Quello esatto Quello giusto Ok Allora Si chiama Uribou Quindi Gli diamo il nome Esatto Quindi U Dov'è la R Non la trovo Qua Ri Bo Bo U Uribou Perfetto Bene Sono contentissimo Sono veramente contentissimo Sì È il guardiano delle montagne È il re di tutti Aspetta un attimo È il re di tutti i cinghiali Beh giustamente È un cinghiale Quindi ci sta che sia il re di tutti i cinghiali Bene Allora Io uscirei un attimo Da Da questa caverna Però Proverei Vabbè probabilmente è già in squadra Perfetto Ok Proverei a fare qualche lotta Per Mentre usciamo Anche perché sono quasi obbligatorio Visto che sono qui Per utilizzarlo Quindi let's go Andiamo Comunque Akinori Si è comportato veramente benissimo Prima Facendo questo attacco caricato Guardate Vedete È mica male Ok Recuperiamo un po' di vita Cioè no di vita Di white point Aiaiaia Basta Tutto me state attaccando E basta Guardate si è trasformato E Basta Guardate come mi stanno attaccando tutti quanti E basta L'ho detto Guardate quel No 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 Che sta attaccando solamente me Guardatelo Guardate Mi è mica Mi è andata a colpire gli altri No Tutti quanti me stanno colpendo Tiè Beccati questo Ti faccio anche Questo Perfetto Preso Get Chiediamoci questo Grandissimo Ribu Grandissimo Il mio cinghialotto preferito Tiè Bam Distrutto Credo di sì Credo che la mossa quella di andare a togliere la sfera sia una possibilità per poter fare amicizia con lo yokai Perché Succede Non sempre Ma succede quando si sconfigge l'avversario Quindi Proprio come avviene Esatto Abbiamo ottenuto questa sfera rossa E probabilmente in base al tipo di sfera o a quante sfere si hanno di un determinato yokai Si riesce appunto Ad ottenerlo Allora a questo punto io scenderei di qua Qua c'è un'altra lotta yokai Affronterei di nuovo anche loro E poi usciamo Bello Bellissimo quest'episodio con Akinori che riesce a ottenere il Ah il suo Anche il suo Yokai Watch Benissimo Tutti me stanno attaccando Vedete le frecce? Tutti su di me Vai così Yeah Ok posso fare amicizia con sabbio Vamos Cioè posso provare a fare amicizia Let's go Cosa ho ottenuto? Get Non si sa cosa Vediamo se prova ad attaccarmi Yeah Proviamo a fare amicizia anche con lui In qualche modo ci proviamo Ben Ottimo Ottimo, ottimo, ottimo Benissimo Anche perché è una cosa che mi avete chiesto in tanti Ovvero come si fa amicizia Come secondo te Come si fa Sei riuscito a capirlo Eccetera Quindi sto cercando di Di capirlo per l'appunto Va bene Lui è l'ultimo Facciamolo E poi usciamo Lui è l'ultima lotta Cioè questa è l'ultima lotta Let's go Anche perché sono anche abbastanza brevi Devo dire Visto che siamo forti Yeah Attacchiamo Devo recuperare un po' Peccato che Deba caricare ogni volta Tutto quello che devo fare Praticamente Via 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 Sì qua Let's go Vediamoci un po' di sfere E vai così Posso fare qualche altro attacco? Sì posso Proviamo un attacco normale Esatto Ha una mazza Ok Ha una specie di Sì Una mazza chiodata Qualcosa del genere Non l'ho provata Ho provato di più l'attacco a distanza Perché mi è piaciuto di più in effetti Perché lo può caricare Ed è molto carino Però devo dire che Anche con l'attacco normale Allora dove dobbiamo andare? Di qua Let's go Let's go Let's go Andiamo di qua Più veloci della luce C'è un altro yokai qui Un nonno fame Ma se provo con queste versioni Penso che poi ottengo La versione base Degli yokai E poi solo successivamente Durante la lotta Si può andare a Provare a cambiare A fare la trasformazione Yeah Becca di questo No Che succede? Stanno attaccando tutti Vieni qua Vieni qua Boom L'ho fatto volare Dai ma non attaccate solamente me Scusa Non c'è tantissimi altri Tiè Sei volato ancora Dove sei? Chikalama Basta Ok Proviamo a fare amicizia con lui Bam Yet Perfetto Ah gli altri Hanno già perso Ottimo Perfetto Un bel po' di esperienza Anche perché deve recuperare Un po' di esperienza Rispetto agli altri Che Hanno fatto Più cose Allora Andrei di qua Ah perfetto E qui lui Salve Ti prometto che Non mi dimeno più Come prima Quindi fammi scendere Grazie Ok Si vola Si vola E rieccoci qua Ok Siamo adesso Dove Ho già sbagliato strada Ma C'era un oggetto Quindi perfetto Credo di essere Dove c'erano gli altri Qui c'è qualcosa Molto bene Una medicina Che ci serve Non so se è proprio dove sono gli altri Dai lui lo saltiamo Perché Ha fatto Un bel po' di lotte Direi Non so se effettivamente Ah mi ha beccato Non so se effettivamente Invece mi serve Perché magari a breve Ci potrebbe essere Qualche sfida Boss Qualcosa interessante Con lui Però vabbè Dai Tiè Vediamoci un po' di Energie Guarda come mi attacca Quello No Ok No No Guarda che Ti riesco ad attaccarti Anche da vicino Ti sembra di no Tiè Anche a te Via Voglio poi vedere Anche Cosa succede Eventualmente Con un energy Max Oh Distrutto Ah tu vuoi fare amicizia Via qua Guardate che faccia Di qua Ok È dorato Quindi è possibile Che io possa fare amicizia Molto più Facilmente Diciamo Mettiamola così Ok Allora Visto che ci siamo Quasi Visto che ci siamo Quasi Beh in realtà C'è ancora un'altra lotta Quindi no Uh Si può andare di qua Eh mi sa che non mi puoi beccare Da qui Posso provare a saltare lì C'è un oggetto Vai Dai Bravissimo E come faccio ad arrivare lì sopra Non ci arriva e basta Forse da ancora più in alto Devo saltare lì Davvero No 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 fame Ciao Proviamo a saltare Eh da lì sopra mi sa Ma che brutto che sei Fatti sfidare Sei bruttissimo tu Sei uno scarafaggio gigante Mamma mia Che brutto Con questi colori Così Sembrano Veramente Radioattivo Chikalama era molto più bello di te Tiè Tiè Guarda quanto siamo diventati forti Bravissimo Sembra però che faccio Molto più io Che loro Possibile Io che dovrebbero stare Invece io Tiè Guarda un po' Dai Oribu Fammi curare un po' Perfetto Via Bravissimo Pollicione all'insù Ragazzi ricordatevi Pollicione all'insù Come sempre Così come fa Akinori Quando lotta Con tutti quanti Di Ok Ci siamo quasi Ci siamo quasi Secondo me Da qua Perfetto Se sbaglio qui Wow Ok Wow Ah Questo qui potrebbe essere Un oggetto equipaggiabile Non credo di poter salire da lì Infatti devo fare tutto il giro Bene Saltiamo lui Benissimo Andiamo di qua Qua abbiamo fatto tutto Saliamo di qua Ops Non si vede niente No Di qua Ci siamo quasi Perfetto Andiamo Cosa succede qui? Non so che cosa succede qui Però Prima di andare Io direi che In realtà Ci possiamo salutare qui Perché Che potrebbe diventare davvero Qualcosa di molto Molto Pericoloso Quindi qua Qua non posso salvare Ma poco faccia È il fiammocchio Quindi io Penso di poter Riandare da questa parte Fatemi provare una cosa Per vedere se effettivamente Esatto Eccolo qua Fatemi provare una cosa Prima di Salutarci Se effettivamente Funziona Per Appunto Reclutare Far amicizia Con gli yukai Non si può fare al momento Perché siamo qui Quindi direi che non lo posso fare Credo che serva quest'app qui Lo vedremo nel prossimo episodio Se usciamo da questa zona Quindi direi che per adesso Ci possiamo salutare qui Abbiamo fatto abbastanza E credo che dopo ci sia Una bella lotta boss Ecco perché mi sono fermato adesso Così in caso Ho la possibilità di allenarmi Qui fuori Con questi tre yukai Noi ci vediamo alla prossima ragazzi Mi raccomando Tantissimi pollicioni all'insù Come sempre Mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Social in descrizione Trovate quindi il mio link di instagram Trovate anche il link Per acquistare la mia maglietta Trovate tutto il necessario Mi raccomando Aspetto tantissimi commenti qua sotto Noi ci vediamo alla prossima Non mancate Perché con Akinori Dovremmo affrontare Probabilmente il nostro primo boss Alla prossima Ciao a tutti Bombe Ciao a tutti Ciao a tutti